Se volete altri vlog video genere mi raccomando dici per il mi piace e ve li porto Bella ragazzi carichi come non mai da FuseGamer Oggi ragazzi video molto significativo per me perché ragazzi Lascerò questa dimora Ragazzi per 16 anni ho vissuto qui quindi mi fa un certo effetto Trasferirmi in un'altra zona E lì c'è Home Come si trasferiranno Home e TonyTubo Mirko, Mister e altri amici ci raggiungeranno poi Comunque saranno comunque ben graditi nella nostra casa Ragazzi come potete ben vedere qua abbiamo smontato tutto Qua c'erano, vi ricordate la postazione da gaming? Tutta smontata e quindi facciamo vedere Guardate qua che cacchio abbiamo combinato Cioè va manca, va di qua Va di qua va di qua E nulla Adesso poi vi farò vedere un po' la casa Vi farò vedere la reazione di mia mamma quando me ne vado Quindi ci sarà un video E sarà un video bel fornito Quindi ragazzi vi esorto a lasciare a me mi piace E fatemi sapere qua sotto nei commenti Il cambiamento da questa casa a quella casa Se vi piace più questa o quell'altra Perlomeno la camera Quindi ragazzi Omar cosa ne pensi tu? Beh sarà una bellissima esperienza E ci vediamo nella casa nuova Ci vediamo presto Fiii Ciao 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 Ma Leo però come ho fietto mamma mia Ciao Prima ma va solo qui Ciao ciao Ci vediamo dai ciao ciao Mister Tony intanto ci verrà a trovare Ma comunque adesso ti farò vedere la mia stanza Com'è composta Anzi decomposta Dopo Vediamo il risultato Dopo ecco Sposta qui al bus Sposta qui al bus Sposta qui al bus Ecco qua mister Non c'è più nulla I ladri I ladri in casa Andri a farmi dare i miei calzini Certo Omar Li farò vedere sicuramente adesso C'è stagione che tenga Posso affermare i calzini Diri Omar Bella Ti chiamassi Omar Ciao Ciao belli Ciao belli Siamo arrivati raga noi O meglio voi siete arrivati ora Io ho il mio house Benvenuti a casa nostra Ragazzi salito ma ancora devo arrivare Però comunque noi già stiamo preparando il tutto Perché stasera poi ci devo aprire la light Su più banale Poi stasera ancora ho preso il cane di toni Quindi ci dobbiamo preparare al meglio Qui il pc E comunque già stiamo preparando un po' di roba E poi ci sono tutti i vestiti Che poi dovremmo mettere comunque Ovviamente Nella camera di toni tubo Perché dopo vi faremo vedere la camera di toni tubo Con tutte le robe Esatto Allestita E quindi Adesso montiamo Omar Il tutto Sì Ok ragazzi Adesso vi mostrerò la nostra nuova casa Vi porterò in tutte le stanze E vi farò vedere anche come è montato il pc e tutto Adesso c'è Omar di là Stiamo aspettando Tony che viene Sono credo quasi le due E sta ancora dormendo Quindi Tony tubo Ti dovrà abituare Agli orari di un vero professionista youtuber Di uno youtuber professionista Allora ragazzi possiamo cominciare Subito Omar puoi venire un attimo? Prego Omar Ti sto aspettando Ciao Omar Ciao raga E benvenuti Nella nostra P***o house Bene Allora ragazzi Qui c'è la porta Con un bello Questa è una portafortune Giusto? Il ferro di cavallo Ferro di cavallo Questa è la porta Molto bella Ovviamente blindata Qui ci appendiamo Tatino 23 Esatto Ragazzi qua Puoi dite che andiamo E noi facciamo La differenziata Ragazzi Glass Ovvero il metro Plastica alluminio E Tatino 23 Esatto No questa è la carta Tatino 23 E l'umido E l'umido ragazzi Va qui Va qui Umido Ovviamente molto Perché siamo appena arrivati Bella Andrea Il primo danno L'abbiamo fatto Questa è la cucina Che c'è un bel quadro Con del vino E poi ci sono tutte Le robe da cucina Vediamo qui cosa c'è Bella Wow Lo riempiremo Di schifezza Ancora non c'è niente Ragazzi allora 10.000 mi piace E vi portiamo con noi A fare la spesa Conto nel gruppo E home Oh madonna Mi raccomando ragazzi Mi piace E vediamo Se raggiungete questi like Allora vediamo qui Ancora non c'è Anzi poi ci stanno i piatti Bicchieri Tazze Eccetera Questo è il frigorifero Che riempiremo Grazie Non c'è nulla Allora Che riempiremo ovunque Grazie alla spesa Qui c'è il freezer Bella Qui c'è il freezer Fatto di pietra Sia Qua c'è la televisione Qui c'è la basso De Wi-Fi Allora Vi portiamo Oh facciamo vedere questo Omar Che è molto interessato La luce si vede tutto Si Ok Omar guarda qua qui c'è una patrice dove laveremo i nostri panni qui c'è il primo bagno dei due qui c'è una doccia ragazzi grazie enorme entra dentro Andrea anche enorme veramente ci entrano quattro persone qua dentro ancora cinque beh Omar sappiamo tutti cosa possiamo fare in questa doccia beh Omar come mi sembra fino ad ora beh siamo soddisfatti allora andiamo sopra qua si accettano le luci comunque è un avanzato in pratica solo che ci puoi dormire poi ci sono i mobili e tutto qui c'è il letto matrimoniale e questo è qua quindi andiamo giù la tua volta vi faccio vedere le due stane principali dove in una c'è il mio computer e nell'altra ci sarà il computer di TanoTubo comunque ci sono due stanze da letto in una ci viveremo io ve lo facciamo vedere dopo questa qui c'è la stanza di TanoTubo credo ci stia qui TanoTubo sei sicuro? eh spero di sì dai qua c'è il secondo pane facciamolo vedere che è più piccolo dell'altra però la doccia è uguale la doccia è uguale guardate qua è nulla e poi qui c'è la televisione ci sono anche i condizionatori così non moriremo di caldo visto che comunque siamo a Napoli nel mese di maggio adesso e ragazzi la camera mia è di Oman guardate qua ragazzi non è ancora completata però comunque i dettagli sono lì tutti i dettagli sono lì ragazzi ecco qua qui abbiamo i due monitor il computer il tutto comunque ragazzi per fare live, video eccetera e andiamo dentro a vedere TanoTubo e ragazzi adesso arriva TanoTubo ragazzi allora prima live incredibile aspetta devo dire una cosa ai ragazzi che qua che loro non possono sapere stiamo facendo tutto un prank finto che tipo con TanoTubo si aveva fatto video di litigare con TanoTubo e nulla poi Tony che poi ancora ve lo devo far vedere TanoTubo vieni Tony vieni qua questo è il video che video è? e questo è no no siamo ancora in live abbiamo fatto fin di litigare con TanoTubo sti vizi e merda stanno facendo con ma merda stanno facendo TanoTubo regna stasera diremo sul canale di TanoTubo bella e diremo chiariremo il diss e chiariremo il diss quindi ragazzi adesso di TanoTubo in live e adesso faccio salutare ai ragazzi la nuova casa la hashtag FizzGamer quanti ne sono? buona ciao mamma 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 può venire in attimo eh mo? feli qua che c'è? eh no dico mo non ci vediamo per Ma perché non ti vengo a trovare secondo te? Ma io ma devo fare le cose mie che fai, tu mi vieni a trovare Certo mi potrei venire a trovare però che cacchio No no nel senso... Ti abita la vicino, vado a trovare e ti vengo a prendere Vieni a trovare? Ma perché non? Eh no vabbè dico però cioè ma non ci vediamo Non sarà più sembra la stessa cosa, cioè non ci sarà più che... No no se lo vediamo Vi dai un abbraccio Un abbraccio? E' pinto o sei? No 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 E' vero? Si Sincero dal cuore? Si Eh io ma però cioè adesso con i miei amici mi metti l'imbarazzo Ma perché l'imbarazzo è solo tua mamma, io sono una così Posso entrare tutti i giorni Ma la cosa sarà... No tutti i giorni, po' cazzo Non preparerai più una colazione a me la mattina Non mi... Non ti sveglierai per andare a scuola Ti sveglierai su mamma e ti sveglia d'acqua No no col cazzo mi sveglio per andare a scuola No comunque Andrea la scuola è importante a me Eh lo so ma... Lo sai che io ci tengo Eh lo so mamma appunto... Ma io voglio... Eh beh ma ci vado Solo il diploma Ci vado Ma mi prometti che avessi tenuto il diploma Certo mamma Guardate le mie Eh no, è proprio bacio mucco no Qua E mi sei sempre piccolino lo sai Pensa mamma che siamo stati 16 anni insieme adesso me ne vado Ma poi torno? No non lo so Ma ma questo non lo so Questo non te lo posso garantire Perché? Perché magari questo test va bene non vengo più E mi ricordo sempre la torno? Eh vabbè che si quello si E vengo sempre a troverso Ok Non mi dà un attualino Che palle però Ciao mamma Dopo domani Vabbè Vabbè Guarda di bene Non fai il credito Vabbè Mangia Ci fa scioluto ma non fa nulla Mangia Che mangia ma Mangia un po' Che palle Che palle Ragazzi Abbiamo finito il tutto Abbiamo finito le due live Sia sul mio canale Che quello di Tonytubo Omar Tra poco andiamo a dormire No Prima ci facciamo andare ad Andrea Eh ovviamente E Tonytubo Eccolo lì Bella Quindi ragazzi Se volete altri vlog del genere Mi raccomando Dici per il mi piace E ve li porto Quindi ragazzi Anche da Mirko Da Mister Che adesso non c'è E' tutto Ragazzi mi raccomando Lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivete al canale Noo ci depicchiamo Ad un prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Ciao